eccoci di nuovo in diretta come avevo annunciato abbiamo bruno alessio che ci racconta tutto quello che avremmo voluto sapere sullo psi ma non abbiamo mai osato chiedere bruno a pari eccoti buongiorno buongiorno abbiamo finalmente risolto un grande mistero che ci chiami bruno di nome e alessio di cognome questo chiariamolo perché secondo me ci hai giocato anche un po così per farci un po allora ci spiega cosa caspita è questo sim cos'è allora in realtà dopo 28 anni devo ancora capirlo anche io quindi cercherò di trovare una raffigurazione che mi sono creato me medesimo e me la sono creata in questi ultimi cinque anni di point security perché ormai da cinque anni sono sono qui mi hanno messo in mezzo ai lupi anzi lupatiotti e non so cosa ne sta uscendo allora io mi sono creato una mia definizione in realtà lo psi ma è stato genericamente sempre associato a un ecosistema di centralizzazione che si riferisce tendenzialmente a al mondo security quindi alla centralizzazione di quello che è l'ecosistema di sicurezza quindi integrazione di protocolli diversi protocolli particolari noi in realtà in pss quindi un po in security secondo secondo me abbiamo dato una declinazione diversa questo perché siamo sicuramente partiti da anche noi dall'importare i protocolli si parla di 15 anni fa ormai dove importavamo le stringhe in contati di i primi i primi dialoghi magari modbus o il siti quando c'era appunto la connessione in ip ma man mano che sviluppavamo man mano che importavamo la tecnologia ci siamo accorti che in realtà la verla la centralizzarla era un era un di cui questo perché perché hai incomincio ad avere un database che davvero popolato di segnalazioni ma ti soffermi a la gestione magari planimetrica ti soffermi alla gestione stile operatorio di vigilanza quindi del del classico evento della della segnalazione generica ma non arrivi a un punto in cui non stai realmente valorizzando quel dato il salto di qualità o la vera differenza che penso abbiamo fatto noi come 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 azienda è quello di utilizzare quel tipo di dati anche con un fine manutentivo quindi un fine tecnico manutentivo con un fine statistico questo perché noi di per sé nasciamo come software house per un'esigenza per un'esigenza diretta questo perché perché quando abbiamo cominciato abbiamo la necessità di dotarci di una piattaforma che facesse appunto l'accentramento e la gestione del delle segnalazioni di allarme ma nel mercato non ce n'erano o meglio ce n'erano ma magari non rispondevano in toto alle nostre necessità e quindi si è deciso attraverso un diciamo l'investimento di un gruppo di aziende di creare questa questa start up questo questo spin off tecnologico per andare appunto a strutturare una piattaforma e quindi partendo da questa esigenza siamo nati già con con non voglio non voglio peccare di presunzione ma un po con la lungimiranza di trovare un prodotto che non si soffermasse alla sola centralizzazione ma che ci offrisse delle delle alternative diverse e questo devo dire negli ultimi due anni l'ho visto l'ho visto particolarmente perché io molte volte presso sul tema di dire non non generalizziamo sul sul tema psima quindi la definizione di psima deve essere sempre calata nel contesto in cui andiamo appunto a localizzare lo psimo può essere visto come una piattaforma di supervisione come una piattaforma di centralizzazione nella nel caso in cui importi diciamo più ecosistemi anche di infrastrutture e di reti diverse oppure può essere un qualcosa una sorta di sistema come ad esempio pss che non si racchiude completamente in questo in questo cronico in questo acronimo di psima non è la sua vera la sua vera definizione devo ancora trovare in realtà un acronimo che lo definisca al 100% è un po diciamo un software che si trova tra un un IRP un un opsim o comunque un software per per la gestione di ticketing e quindi ha una sua connotazione un po innaturale diciamo che è un software fluido utilizziamo questa tematica che al giorno d'oggi è proprio aggiornata e un'altra cosa dopo aver aver creato questo strumento multiforme ovvio abbiamo avuto la difficoltà di calarlo nel nel contesto dell'operatore quindi del target che riuscisse a ammaneggiarlo appieno e non mi nascondo che la fase di messa a terra e di formazione di piattaforme come questa è davvero davvero impattante quindi anche lato nostro è una via crucis però porta dei risultati porta una soddisfazione non indifferente è un'altra cosa che mi sento di dire sempre collegata appunto a questa sua natura atipica di piattaforma è il fatto che da sempre lavorando comunque in infrastrutture complesse abbiamo deciso di creare un una piattaforma che possa anche far da accentratore di altre piattaforme questa è la nostra logica che chiamiamo pss remoto dove in realtà andiamo a installare delle piccole supervisioni immaginiamolo come se fossero noi li chiamiamo pss slave che vanno tutte a chiamare la la mamma la mamma pss che è una piattaforma invece di centralizzazione e dove lì fa una fa da gateway porta tutta la tecnologia e la trasporta direttamente all'interno di questa piattaforma master questo ecosistema l'abbiamo pensato per l'utilizzo bancario dove non si potevano appunto puntare i sistemi dal dalla rete delle clienti quindi della rete chiusa a verso l'esterno verso il sistema integrator e allora si è deciso di fare questo collettore che amalgamasse tutta la tecnologia e la trasportasse fuori attraverso un protocollo proprietario pss verso una piattaforma master questa logica qui appunto di pss remoto a secondo me muove una funzionalità o comunque una una peculiarità che è quella del parallelismo del controllo cosa cosa voglio intendere con parallelismo di controllo grazie appunto a questo a questo tunnel critoria fatto di pss su pss io posso remotizzare la gestione dell'intero pss slave quindi del del figliolo all'interno della piattaforma master e posso far sì che l'operatore che gestisce le segnalazioni nel pss master gestisca in maniera diciamo super partes e quella che è la la gestione del sito abbiamo diverse vigilanze che vanno a prendere in gestione gli impianti di supervisione per dire dalle sei del pomeriggio alle otto della mattina e dove fanno anche la gestione della telefonia più che della rispondono alle telefonate appunto degli interni e questo perché perché riescono a trasportare tutta la tecnologia da una parte all'altra quindi anche con quello che è l'avvento di della sensibilità della sensibilizzazione del mondo cyber quindi tutto quello che è l'informativa alla cyber security da la piattaforma diciamo che rispetta quelli che sono i principi carni e quindi non non pubblicare le infrastrutture cercare di mantenere appunto delle vlan separate avere appunto un occhio di riguardo a quella che è la tecnologia che dal dalla piccola casa della della signora maria alla grossa logistica sappiamo che è un tema che a giorno d'oggi è diventato ormai di ordine comune proprio appunto dovuto anche al fatto che si è sempre pensato che un dispositivo in rete non potesse dialogare verso server esterni non potesse avere una gestione diversificata e i recenti casi ci hanno rappresentato come la tecnologia ormai sia arrivato ad un punto tale che siamo siamo noi in ritardo nella nella burocrazia siamo noi in ritardo nelle procedure siamo noi ritardo appunto nell'armonizzazione di quelli che sono i sistemi quindi giusto per riepilogare quello che voglio rappresentarvi io è un termine di sim che ha un convention non non si non non bisogna soffermarsi al vedere la piattaforma come un un semplice aggregatore ma bisogna diciamo visualizzarla sotto un altro fronte e ovviamente avere un la possibilità di vedere una piattaforma a così ampio spettro darà diciamo delle delle noie tutta a tutti coloro che dovranno fare della progettazione perché dovrà esserci anche un una raffigurazione normativa che permetta appunto ai sistemi intergetto e ai sistemi intergetto o comunque i professionisti del settore di capire quelle che possono essere le funzionalità a 360 gradi in questo tipo di sistema e non appunto quello che cerco di riportarvi che un po quello che ho potuto prendere per una mia una mia esperienza personale in lato system integrator noi abbiamo delle realtà davvero davvero forte in italia che sono riusciti a farne della piattaforma un po un cavallo di battaglia molte volte anche tu Ilaria ci hai supportato in questo abbiamo fatto del dei redazionali o comunque abbiamo riportato delle che esistono importanti questo perché perché la piattaforma oltre ad avere questa sua appunto forma atipica anche dal canto suo essendo interamente sviluppata da noi una buona flessibilità e una buona propensione alla alla customizzazione la customizzazione di per sé io ogni tanto piango lacrime amare perché sono è un'attività che che noi comporta veramente veramente tantissimo tantissimo tempo tantissimi sacrifici quello di avere una piattaforma custom che viene appunto gestita in maniera tailor made o comunque sartoriale di cliente in cliente però devo anche dire che un po il punto di forza perché abbiamo ognuno di noi ha delle esigenze diverse e i partner con cui collaboriamo quindi i clienti con cui lavoriamo hanno anch'essi nonostante facciano parte della stessa categoria mercologica hanno tutti 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 delle esigenze operative degli standard operativi dei modus operandi completamente diversi e quindi anche grazie appunto alle pubblicazioni che facciamo cerchiamo di dare delle visioni diverse di quello che è appunto il nostro mondo e ritornando sul tema del del facility avere una piattaforma che permette di ricevere una segnalazione di allarme e sulla base di logiche che si vanno ad impostare creare un ticket o comunque una richiesta di intervento diretta all'help desk e che possa essere gestito da dal tecnico attraverso un applicativo dedicato dove fa la compilazione del foglio di lavoro dove fa dove ha appunto i precedenti precedenti interventi alla consistenza dell'impianto è un qualcosa che ci siamo resi conto essere verticalmente molto 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 efficace appunto per il sistema integrato altra cosa di cui andiamo molto fieri è il gran numero di collaborazioni che siamo riusciti a chiudere in questi anni questo perché avere un ambiente chiuso avere un ecosistema esclusivo non ha mai portato a nulla noi proprio ne abbiamo fatto di una virtù quindi l'integrazione e siamo davvero molto contenti che anche altri partner nel nel territorio abbiano la nostra stessa politica ideologia allo stesso modo collaboriamo con altre software house per dire la parte di ticketing e facility abbiamo una decina di integrazioni con piattaforme crm per passare tutta la documentazione appunto di cantiere o comunque tutta la documentazione sviluppata dal tecnico durante l'intervento direttamente ai portali per la saturazione quindi si va ad ottimizzare al al cento per cento quello che è la lavorazione del tecnico si evitano passaggi si evitano problemi magari di di pre contabilità in cui magari si salta salta la virgola se ci si dimentica dell'articolo questo perché man mano che andremo avanti il mondo sarà sempre più è integrato e trasversale anche su quelle che sono le tecnologie in ambito in ambito sicurezza quindi questa è un po la rappresentazione che noi stiamo cercando di dare al nostro software e sono dell'idea che ad oggi abbia questa natura ad oggi abbia questa vision ma probabilmente da qui a cinque anni sarà completamente diverso questo perché le tecnologie ci stanno davvero permettendo di fare la qualsiasi l'AI ci insegna nel senso che anche a livello di gestione helpdesk noi stiamo lavorando per ottimizzare quelli che sono gli strumenti per gestire le operazioni ripetitive la signora maria che non si ricorda più quali sono i parametri di accesso dell'app che ormai è all'ordine del giorno e quindi su questo dovremmo cercare di utilizzare appunto gli strumenti che man mano ci verranno proposti dalla tecnologia e farne un po un agglomerato questo mi sento di dire bruno allora io ti ringrazio molto perché è vero abbiamo scritto insieme abbiamo collaborato insieme alla pubblicazione diversi case history però è la prima volta che sento devo dire insomma mi ha emozionato sentire proprio la storia di questo vostro psim che non è un è che è fluido ecco si è fluido che va anche un po di moda è atipico mettiamo così e cioè sentire come ci siete arrivati perché è sempre affascinante comunque vedere come le le i prodotti in questo caso i software le piattaforme vengono sviluppate e nascano proprio analizzando il mercato ascoltando le richieste del mercato a proposito di questo io mi sono appuntata alcune cose che mi hanno mi hanno colpito naturalmente il fatto di valorizzare il dato valorizzarlo a fine tecnico a fine malutentivo a fine di intervento a fine statistico naturalmente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ma soprattutto mi ha colpito questo tema della vostra piattaforma master che accentra le piattaforme slave insomma le altre ppss slave ecco tu hai detto che è nato per le banche perché hanno sistemi chiusi puoi darmi proprio in 30 secondi un esempio di quello che potete fare con questo per le banche assolutamente diciamo che è nato appunto sull'ambito di sistemi chiusi quindi il bancario è uno il militare come quelle strutture militari ne sono un altro esempio lì ci sono dei sistemi quindi la parte anti intrusione comunque tutti i sistemi tecnologici non possono essere puntati verso l'esterno per una natura diciamo di sensibilità delle infrastrutture e tendenzialmente lavorano appunto su delle bulani interne con alcuni partner seguiamo 6 7 gruppi del gruppi bancari che fanno parte di di crea banca e in in quel caso specifico si vanno a posizionare delle delle piccole piattaforme all'interno dell'infrastruttura del della banca dove lì vengono appunto puntati internamente e localmente i sistemi e viene creata una sola porta in uscita quindi una sorta di cordone umbilicale che collega quella mini piattaforma alla piattaforma di gestione del system integrator quindi il system integrator non accede direttamente al dato diciamo richiamando la centrale o inviato dalla centrale ma va in maniera indiretta in cascata a prelevarselo dalla piattaforma di super bisogno questo permette di tenere degli ecosistemi stagni e quindi di non creare delle interazioni dirette da un certo punto di vista anche pericolose tra tra le due infrastrutture quindi quella esterna e quel del sistema integrator quella interna del gruppo bancario è affascinante perché questo comunque si può applicare anche a tutti i siti ad altissima criticità perché tu hai parlato di più critici di tutti i militari però insomma ci sono abbiamo delle infrastrutture critiche interessante bene molto molto interessante purtroppo il tempo è tirano io devo chiudere ricordo a tutti che se volete votare la soluzione di pss dovete spingere il bottone in basso a destra perché per noi è molto molto importante sapere cosa vi è piaciuto di più avete tre tre soluzioni al giorno ti ringrazio molto grazie a lei grazie do qualche minuto di pubblicità grazie a tutti